Attenzione! Questo vi lascerà a bocca aperta. Potreste ottenere risultati migliori del 30% nello stesso tempo. Grazie al Quality Wellness Hub, un nuovo spazio esclusivo con macchinari unici in città. Molte persone non sanno come allenarsi nel modo giusto, errori comuni possono rallentarvi e persino aumentare il rischio di infortuni. Ma non preoccupatevi, ci pensiamo noi. A ottobre inaugureremo il Quality Wellness Hub. Trasformate i vostri allenamenti e vedrete progressi reali. Parliamo degli errori più comuni nei workout in palestra. Usare pesi sbagliati, caricare troppo peso o troppo poco, fare un numero errato di ripetizioni e non concedersi abbastanza tempo di recupero. Vi suona familiare? Con il nostro Wellness Hub eviterete queste insidie e massimizzerete i vostri progressi. Immaginate di ottenere risultati migliori del 30% nello stesso tempo. Siete pronti a salire di livello? Segui la pagina e preparati alla prossima inaugurazione del Quality Wellness Hub. Ricordate, non improvvisate, affidatevi a chi fa questo di lavoro da tantissimi anni. Da ottobre il Quality Wellness Hub sarà il vostro punto di riferimento per un fitness di livello. Vuoi ricevere l'esclusivo invito omaggio all'inaugurazione? Clicca il link.